30 persone condannate al lavoro di pubblica utilità o che godranno del procedimento sospeso con messa alla prova effettueranno nei prossimi tre anni il loro servizio in favore della collettività nei due presidi dell'azienda ospedaliero universitaria di Cagliari. Roberta Ebau. Da condannati anche se per reati minori ad attori di buone azioni. C'è un protocollo di intesa e una convenzione tra l'azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, il Tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna. 30 persone condannate al lavoro di pubblica utilità o che godranno del procedimento sospeso con messa alla prova effettueranno nei prossimi tre anni il loro servizio in favore della collettività al San Giovanni di Dio e al Policlinico Duilio Casula. L'accordo ha lo scopo di dare impulso ai percorsi di inclusione sociale nei confronti delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. Un passo importante per favorire l'inclusione sociale. È una risorsa per i cittadini condannati e imputati. Da una parte l'esecuzione della pena ma anche garanzia di sicurezza per la società perché chi sarà coinvolto difficilmente sarà spinto a violare di nuovo la legge. Le persone che saranno giudicate idonee per il percorso di volontariato avranno compiti amministrativi e tecnici ma anche ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità unita alla professionalità degli interessati e alle finalità dell'azienda. Per ciascuno sarà redato un progetto dove è specificato l'impegno, il luogo in cui si svolge, il numero di ore e le modalità. Ogni persona avrà un referente in affiancamento nel percorso. È tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.